Il Massa Real contro i Dogs si recupera al campo Santo Stefano il match che si sarebbe dovuto svolgere lunedì Formazione ospite con il lutto al braccio e che per onorare un amico scomparso parte subito a razzo trovando il gol del vantaggio con Davide Moro bravissimo a riconquistare palla sulla mediana involarsi entrare in area dalla destra e poi col Mancino infilare in fondo al sacco tra i black ottimo anche l'esordio da parte di Tosi che qui dà la palla per Moro diagonale Mancino a Iana non ci arriva 2 a 0 per la formazione ospite i nerazzurri non rimangono a guardare qui Mauro Pao in tapin da due passi riduce le distanze succede sostanzialmente tutto in questa frazione di gara qui Riccardo Iba da due passi per il punto del 3 a 1 poi di nuovo la formazione nerazzurra e di nuovo con Mauro Pao sugli sviluppi di un traversone dalla destra e infine l'uomo simbolo di questo match Davide Moro chiude il match con questo destro dalla distanza vince gli Dogs 4 a 2